Buongiorno a tutti, affrontiamo il regime particolare a cui sono sottoposti i beni di rilevanza storica detenuti da soggetti privati. Infatti tale regime è molto particolare in quanto il bene viene considerato comunque di interesse storico-culturale, seppur comunque detenuto da un soggetto determinato come persona fisica e privato. Tale regime è molto interessante soprattutto in questo momento storico in virtù del fatto che soprattutto con l'avvento del Covid-19 si è cercato di rendere molto più attenta la rinnovazione in ambito socio-culturale ma anche economico di taluni beni o immobili, tra i quali rientrano per l'appunto anche gli immobili vincolati, i quali sono stati resi protagonisti di questo rilancio dell'economia in quanto in realtà soprattutto in Italia la stima prevede circa 200.000 dimore storiche nel territorio dello Stato di cui 30.000 sono ad uso da parte di un privato. Dunque a tal proposito lo scopo qual è? È quello di rendere produttivi e dunque fonte di reddito questa tipologia di beni, questo soprattutto perché è essenziale poter garantire una possibilità anche economica per far fronte alle spese onerose circa la conservazione, la manutenzione e la gestione del bene in questione, il quale così come definita da parte della Costituzione all'articolo 9, deve essere legislativamente posto sotto conservazione idonea per mantenere dunque la valenza di bene storico a livello immobiliare. Dunque il regime fiscale a cui questa tipologia di beni, ossia le dimore storiche private, sono assoggettati è molto più favorevole rispetto a quello ordinariamente previsto. Per esempio dal 91 fino al 2011, quindi per ben 20 anni, la disciplina che sottoponeva tali beni a regime fiscale prevedeva che il reddito prodotto da questa tipologia specifica di immobili fosse tassato secondo la cosiddetta rendita figurativa. Dunque nel caso di locazione per esempio vi era una totale irrilevanza fiscale dei canoni percepiti da parte di questo tipo di immobile. Dopodiché nel 2012 questo assetto è stato totalmente abrogato in sostituzione in realtà di specifiche deroghe, ma sempre comunque incluse nel regime previsto in questo caso per i beni ordinari. Quindi è stato predisposto un regime fiscale, sì più favorevole però rientrante come deroga specifica nel regime già previsto per gli immobili che non abbiano la valenza di dimora storica privata. Quindi è prevista in tali casi una deduzione delle spese per quanto riguarda l'immobile per esempio sottoposto a locazione, pari circa al 35%, il rapporto invece al 5% di detrazione è previsto invece per gli immobili di tipo ordinario. Poi vi è anche la possibilità di dedurre dall'imposta sul reddito i costi sostenuti per far fronte alle spese di gestione e di conservazione del bene, infatti per le persone fisiche tale deduzione fissata ad una somma pari del 19% delle spese appunto per la restaurazione e la conservazione. Per la tassazione invece locale ai fini dell'IMU quest'ultima viene decurtata della metà rispetto al regime ordinariamente previsto, ma una cosa che è necessario specificare è che una peculiarità è stata evidenziata in virtù del fatto che con la legge di stabilità nel 2016 si è prevista l'esenzione delle abitazioni principali dal regime IMU con la specifica esclusione però delle dimore storiche private, cosa che si è realizzata per lo più come una sorta di paradosso e contraddizione rispetto a quanto definito fino ad ora, infatti tenderebbe quasi ad assoggettare questa tipologia di beni che abbiamo visto in realtà necessita di costi e oneri molto importanti rispetto a quelli previsti nel regime ordinario, quasi ad un regime di discriminazione rispetto a tutto il resto dei beni, in quanto in realtà va a vanificare la differenziazione appena fatta.